La tecnologia EletroBioPond o E-BioPond nasce dalla ricerca di un gruppo di ricerca dell'Università di Milano che è stato poi trasferito all'azienda Algaria. Questa tecnologia si basa sulle attività microbica elettroattiva che avviene all'interno di sistemi elettrochimici microbici. Questa tecnologia permette sostanzialmente di recuperare nutrienti da scarti organici e residui dell'industria alimentare per poterli riutilizzare come nutrimento per la coltivazione di microalghe. Quindi sostanzialmente nell'ottica di un'economia circolare andiamo a recuperare quello che sarebbe uno scarto per produrre un prodotto di altissimo valore aggiunto e un cibo di altissimo valore nutrizionale. Il cuore della tecnologia E-BioPond si comporta sostanzialmente come un suolo artificiale dove microrganismi a contatto con materiali conduttivi ossidano la sostanza organica liberando in forma minerale tutti i nutrienti contenuti inizialmente nel substrato. Questi nutrienti quindi possono poi in soluzione andare a disposizione delle microalghe che possono crescere grazie alla presenza di questi nutrienti. La tecnologia E-BioPond applicata alla coltivazione della spirulina permette di utilizzare fertilizzanti organici e quindi produrre una spirulina di qualità biologica. La spirulina inoltre è importante dal punto di vista nutrizionale in quanto il 60% in peso di questo prodotto sono delle proteine con minerali, antiossidanti e vitamine. Produrre spirulina significa ridurre gli impatti ambientali. Facendo un esempio, 15.000 litri di acqua servono per produrre un chilo di carne, solo 15 litri servono per produrre un chilo di spirulina. La tecnologia E-BioPond ha permesso alla nostra azienda SpiruFarm di produrre spirulina biologica per 365 giorni l'anno. Come? Attraverso l'impianto di biogas. L'impianto di biogas è stato fatto nel 2012, è di 380 kilowatt e praticamente attraverso l'utilizzo dell'energia termica che l'impianto di biogas quotidianamente produce, riusciamo a produrre spirulina all'interno di una serra sfruttando l'acqua calda che serve a riscaldare la serra e a mantenere anche sostenibili gli altri elementi a supporto della fase di processo di SpiruFarm e cioè della produzione di spirulina e della sua essiccazione.